ciao lillo scusa una domanda ma ci sono delle persone che dicono io non vado al centro di salute mentale il vecchio cim perché lì ci vanno i matti ma tu su questo che pensi a parte che mi piace definirmi matto ma questa è una cosa personale comunque proprio perché vai al cim se ti rivolgi al cim vuol dire appunto che non sei matto tutt'altro anzi sei una persona che vuole bene a se stessa